non capita tutti i giorni di venire a contatto con la storia del paese ed è tra mille sensazioni profonde che entrano nell'anima del comune sia perché ci troviamo in pieno centro a paderno e sia perché chi conosce questo luogo ne percepisce il grande valore storico in un certo senso è come viaggiare nel tempo rivivendo le emozioni delle famiglie che hanno vissuto questa casa una cornice talmente tipica in cui passando dal cortile ci ritroviamo nelle classiche aree adibite al lavoro dei mezzadri un casolare dalle dimensioni generose che tra piano terra e primo piano dispone di numerosi locali vi lascio all'esplorazione dei vari collegamenti tra le stanze buona visione e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.